Ciao a tutti! Oggi prepareremo la cheesecake alle fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più 7 ore di riposo in frigo. Ingredienti sono biscotti, burro fuso, yogurt alla fragola, panna fresca per dolci, zucchero semolato, gelatina ammollata in acqua fredda, formaggio spalmabile. Per la gelatina, zucchero, acqua, amido di mais, gelatina, fragole intere e fragole a fette. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti. Li facciamo tritare per 20 secondi a velocità 5. Aggiungere il burro fuso ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 4. Il composto è pronto. Trasferire in una tortiera con apertura a cerniera del diametro di 22 centimetri rivestita con pellicola trasparente e riporre in frigo. Senza lavare il boccale, mettere nel boccale lo zucchero, la panna, lo yogurt, il formaggio spalmabile, i fogli di gelatina ammollati in acqua fredda ben strizzati, ed azioniamo il bimbi per 2 minuti a 50 gradi a velocità 5. Il composto è pronto. Versarlo sulla base dei biscotti. Riporre in frigo per almeno 6 ore. Trascorso il tempo prepariamo la gelatina. Mettere nel boccale lo zucchero e le fragole intere. e le facciamo tritare per un minuto a velocità 10. Rionire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i fogli di gelatina ben strizzati. L'acqua e l'amido di mais. ed azioniamo il bimbi per 4 minuti a 90 gradi a velocità 3. La gelatina è pronta. Nel frattempo abbiamo ripreso la cheesecake dal frigo. andiamo a posizionare le fragole. Versare la gelatina sulla torta aiutandoci con un cucchiaio. Riporre in frigo per almeno un'ora. La cheesecake è pronta. Sformare e servire. Cheesecake alle fragole. Grazie e alla prossima ricetta. A presto. Grazie a tutti.